Tavoli all'aperto anche d'inverno. L'amministrazione comunale con delibera di giunta ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 l'uso gratuito di suolo pubblico per esercenti di somministrazione e bevande alimenti, bar, ristoranti, pizzerie per allestire tavolini e sedie all'esterno dei propri locali. Da subito infatti l'amministrazione era intervenuta per applicare in modo celere e semplificato l'esenzione statale inizialmente prevista per i messi da maggio-ottobre in linea con il decreto rilancio. In questo modo da una parte assicuriamo il necessario distanziamento sociale per i clienti degli esercizi così da prevenire il rischio contagio da Covid-19 e dall'altra consentiamo a tanti lavoratori la possibilità di svolgere la propria attività permettendo così di compensare almeno in parte la riduzione di tavoli e sedie affermessi in Dacuanna Maria Casini anche se la stagione del freddo si sa che ridurrà di molto gli spazi all'interno dei locali. Con questa delibera per tutti coloro già in possesso di autorizzazione per l'occupazione di solo pubblico con scadenza 31 ottobre 2020 non sarà necessario presentare alcuna istanza di proroga in quanto tali concessioni si intendono rinnovate automaticamente alle stesse condizioni fino al 31 dicembre. Nel caso ci fossero variazioni rispetto alla precedente occupazione gli esercenti saranno tenuti a darne informazioni al competente ufficio comunale del quarto settore. Stesso discorso di esonero dal pagamento della TOSAP vale anche per tutti coloro che sono già in possesso di autorizzazione fino al 31 dicembre 2020. Per chi non è in possesso di autorizzazione e intende presentare nuove istanze potrà farlo utilizzando la modulistica predisposta lo scorso maggio. Tali occupazioni straordinarie e temporanee effettuate dalle esercenti ai sensi della deliberazione della giunta 81-2020 non costituiscono in alcun caso diritto ai fini di un loro mantenimento dopo la scadenza.